Non mi hanno preso in considerazione. Morani, dica. Rispetto anche all'organizzazione del trasporto, alle risorse e quant'altro, io penso che l'atteggiamento di collaborazione degli enti locali, delle regioni e del governo sia dimostrato anche da un clima diverso che si sta registrando anche negli incontri che si fanno sulle problematiche rispetto a quelle più calde. Il TPL è una di queste, il trasporto pubblico locale è una di queste. Però sentir dire da un sindaco di una città importante come Napoli che le responsabilità sono sempre altrove, francamente un po' mi abilisce perché ognuno dovrebbe prendersi il pezzo della propria responsabilità. Io sono responsabile di tutto, onorevole, io mi prendo tutte le responsabilità del mondo. Dite che è colpa mia che la sanità non funziona e siamo tutti contenti. Io cerco di dare il mio contributo, onorevole. Ma lei lo sa che i soldi per il trasporto pubblico non sono ancora arrivati? Lei lo sa che i comuni non hanno avuto ancora un euro? Lei lo sa che noi non riusciamo a fare i bilanci a fine anno? Ma la sapete questa cosa? No. Come li garantiamo i servizi? Poi dite che è colpa mia, va benissimo, è colpa dei sindaci. Il paese come Ponzio Pilato si lava le mani. Sui soldi, posso avere una risposta precisa sui soldi, Morani? Sono arrivati i soldi ai comuni sì o no? Per capire. I soldi ai comuni sono arrivati, non si dica che non sono arrivati i soldi ai comuni. Dopodiché io non sto dicendo che la colpa è di De Magistris, sto dicendo l'inverso. Sto dicendo che ciascuno si prenda il pezzo della propria responsabilità e provi a fare il meglio su quel senso di responsabilità, senza farlo scaricabarile continuo. Io questo sto dicendo, perché come governo noi ci prendiamo tutte le responsabilità che volete, però ognuno faccia la propria parte. Ma io il governo nazionale, la propria città, l'onorevole, il governo nazionale è un po' di responsabilità. Io ancora non ho capito, è bella stascioletta, tutti parlano di responsabilità, io ancora non ho capito come mai la medicina territoriale non funziona e non solo a Napoli.